C'è grande incredulità a San Giorgio per la tragica morte di Valeria Brizolara, la trentenne della frazione Ronco, deceduta ieri in un incidente avvenuto in Puglia, sulla strada provinciale che collega Turi a Gioia del Colle. La Piacentina viaggiava con altri tre amici a bordo di una Peugeot 205 che per cause al vaglio della polizia stradale è entrata in collisione con un tir e si è ribaltata. Il bilancio è stato tragico, tre i morti e un ferito molto grave. Le vittime oltre a Valeria Brizolara sono Lisa Basso, 26 anni di Genova, e Fedele Zolfi, trentenne Emiliano. In gravi condizioni Gianluca Molinari, 31enne residente a Genova, il leso invece il conducente del mezzo pesante. Nel momento dell'impatto nella zona imperversava un violento temporale, il gruppo si trovava in Puglia per partecipare a un matrimonio. Valeria Brizolara si era laureata in fisica e da diversi anni lavorava in Svizzera. A San Giorgio lascia i genitori e una sorella. Ricordarla è Don Stefano Garilli, Valeria era molto solare e partecipava alle attività della parrocchia, cantava anche nel nostro piccolo coro.